L'ultima in cui sì, Conte ha avvocato a sé probabilmente un po' troppo, anche tutte le prerogative del Ministero dell'Economia, qui superando ampiamente le deleghe concesse al Ministro Tria. Su questo penso si sia esagerato un po'. E quando c'è stato un cambio di atteggiamento di Giuseppe Conte? Quando ha notato lei un cambio di atteggiamento di Giuseppe Conte nei vostri confronti? Come le dicevo abbiamo avuto un po' di frizioni, cioè sostanzialmente un blocco dell'attività di governo da primavera in poi. Probabilmente quando si è iniziato a capire che la Lega guadagnava troppi voti. Come ha detto l'amico Giorgetti il nostro errore è stato di prendere troppi voti alle europee. È così, però fa niente. L'importante è che adesso arrivano tante belle elezioni e lì non sono sondaggi, sono voti veri. Allora io farei vedere le immagini.